ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video un video spacchettamento di passioni unghie del mese di giugno e però vi anticipo che non ho preso niente giugno ho preso soltanto ho fatto cioè del mese di giugno ho preso solo le offerte praticamente non prese così nuove perché delle novità del giugno perché mi serviva solo le cose più essenziali insomma praticamente dato che comunque mesi scorsi ho fatto abbastanza ordini tra la fresa tra l'aspiratore tra tanti gel color che ho preso quindi ho speso tanto e quindi stavolta me volevo concentrare soltanto sulle cose che mi servivano e sulle cose che mi stavano finendo e in più dei colori ne ho presi soltanto due che erano offerta quindi nel mese di giugno ho preso soltanto le offerte praticamente e poi qualcosina così da provare insomma comunque adesso vi faccio vedere il pacco mi è arrivato proprio adesso eccolo qua non ho preso tante cose vi ripeto sono le cose più necessarie che mi servono insomma è arrivato proprio in questo momento qui il pacco appena suonato il corriere soccorsa come sempre che in un tanto volo che ogni volta aveva una roba bella per poco non arriva il corriere a casa che ricevi le cose che ti piacciono insomma penso a tutte e comunque la faccio breve appena è arrivato il corriere ma suonato sono sceso giù subito come flash allora qui come sempre queste tutte le cose che ho acquistato ho scritto i prezzi nel fogliettino quindi dopo vi faccio vedere anche c'è vi dico anche i prezzi allora adesso apriamo insieme il pacco lo metto più qua perché faccio ho scritto via tutto e robe varie allora vediamo un po adesso andiamo aprire quindi mi è arrivato proprio adesso il pacco e di gel color ripetono presi soltanto due e quindi non li sto a farvi vedere su tip insomma dato su solo due allora ho cercato stavolta questo qui è il pacco dove dentro sono le cosine queste sono le mascherine ho preso adesso vi faccio vedere tutto allora c'è più niente mettiamo via allora ho preso le mascherine queste qui da 50 allora le mascherine queste sono a tre filtri plus senza lattice e colore è barbie è piccolissima la scatolina dei video pare molto vedete ma pare molto più lunga e più grande dice piccolina ne sono 50 io l'ho presa vedete pink e queste mi sono costate 4 euro e 90 le cose in offerta ve le dico insomma sono in offerta queste no eccole qua io l'ho prese perché io ho questa mascherina qui che fa veramente schifo che ve la faccio vedere cioè guardate è vecchissima cioè guardate che roba c'è possa sporcata tutto in casino questo me si stava staccando vedete se mette così di una di qua una di qua però è anche scomodo da metterle posso affoca tanto un po adesso che caldo quindi questa adesso andrà buttata via subito velocemente perché adesso queste mascherine qua nuove fammi vedere che figata adesso ne tiro una fuori per vedere com'è e quanto sono carine poi queste più professionali anche l'ho preso color barbie uniglows poi c'ha questo elastico infatti si ha tre strati questo elastico o che si infila così poi è molto leggere quindi non è che soffocate praticamente sono veramente contenta di averle prese è una cosa però io non so perché nel sito se non erro non c'è scritto dopo vedo stante volte c'è scritto quanto la scatola ma mi pare di no da vedo se riesco a rimetterla di lascio così dato questa domani mi serve che ho una cliente quindi una cosa soltanto volevo capire siccome 15 50 pezzi ma è mi raccomando scrivetemelo sotto a questo video nei commenti che sono curiosa perché un pezzo scusate mi metto posto cavalletto è un pezzo che lo volevo sapere ma non lo so quindi ve lo chiedo a voi se qualcuno le usa queste passioni dato che ci sono 50 pezzi volevo sapere se è usa e getta c'è nel senso ne metti una finita usarla la butti ma credo di no penso che te da 50 pezzi usi la prima fino a che te dura la usi dopo quando vedi che se rovina se spurca se strappa credo che poi la butti viene prendi un'altra credo perché non penso che uso e getta che la usi una volta e poi la butti via non è che come i guanti quelli in lattice che li metti ovviamente usi per una cliente finito il lavoro ovviamente le butti via non è che questi guanti poi li riusi per un'altra cliente io almeno faccio così ma credo tutti anche per igiene no io per esempio quando faccio i miei clienti uso delle lime ognuno apposta per loro non è che usa una lima per tutte le clienti quindi la uso una apposta per loro dopo disinfetto sempre comunque tutto anche le punte e tronchesine le spingi cuticolo insomma tutte le cose che c'è da sterilizzare e e quindi ecco non penso che come i guanti che appena li usi sui clienti più le butti via che usa e getta insomma poi quando arriva un'altra cliente ne prendi un altro paro credo che queste comunque come credo io che la usi finché te dura dopo quando te se rompe te se strappa sporca cazzo ne sono te funziona più e prendi un'altra comunque fatelo sapere sotto nei commenti se usa e getta ma credo da no comunque ok queste qui sono le mascherine e le abbiamo viste adesso passiamo al pacchettino vedete piccolino pare grande videocamera ma non è piccolino vedete c'entra anche la videocamera qui il solito fogliettino cosa fare c'è lo metto dell'ordine come conservare gel io questo siccome non scusate un attimo siccome io questo non ce n'ho ne manco uno questo vabbè come con come fare c'è lo metto dell'ordine come conservare gel qui dice qui dice il modulo di reso istituzione e questi l'ho sempre buttati via perché comunque non c'è avuto mai problemi soltanto un mesetto fa non mi ricordo quando era quando avevo acquistato qui tanti gel colo che mi era venuto un gel uguale a un altro che mi ha fatto notare una mia scritta ma come raccorta però non sono stata a scrivere ma da un altro gel colo alla fine uguale a un altro che avevo comunque va bene però questo qui stavolta me lo tengo perché tante volte succede che non va bene anche nei prossimi ordini qualcosa meno un foglietto ce l'ho quindi questo me lo tengo da parte e poi me lo tengo da parte anche perché una ragazza visto che ha fatto un video di spacchettamento del passione unghie questo qui nel pacchettino non c'era posizionato così come sempre e quindi la pura mi erco che non arrivava questo fogliettino dico porca miseria non ho mai tenuto ma non ho mai tenuto uno dico porca miseria da come fosse a tante volte c'è qualcosa che non va no non ce l'ho più il fogliettino se non li danni più pro me pareva strano come davano i più se vede che lei è capitato che si sono scordati di attaccarlo insomma praticamente o questo non lo metto da parte tante volte succede qualcosa meno ce l'ho ok bando alle cianci adesso e apriamo il pacchettino insieme allora vediamo il solito munita di forbici il nostro pacchettino alle cose venente qui tutto aperto bo ma stavolta l'hanno impacchettato male comunque non sono soddisfatto niente vuoto che non c'è più niente ha ne proprio impacchettato male cioè qui se a no era chiuso soltanto che vabbè non ha ne portati po allora adesso vi faccio vedere tutto e adesso tiro tutto fuori tutte le cose le tiro fuori tira tutto fuori un attimino tiro tutto fuori così ok qua non c'è più niente a posto allora prima cosa lo immagino vediamo un po che immagino ci ha mandato tu a mi scordo sempre di mettere scusate la tovaglietta di possione unghie anche perché qua è rosso dopo vedete male credo mi scordo sempre di metterla ok eccola qua perfetto vedete bene credo non si vede bene ok allora lo immagino vi stavo dicendo eccolo qua stavolta le pagliettuzze vediamo un po come immagino belle queste infatti adesso mettono cose estive infatti perché tanto io di creato normale allora carine queste sono tra i riflessi di buono sa che colore pare rosse comunque con riflessi un po arancione gialli bo però molto carine grazie tu come sempre loro vi danno l'omagino sono molto graziosi e grazie mille allora i due college gel color come sempre i gel colorati ve li faccio sempre vedere per ultimo allora ho preso il blush cleaner perché mi sta finendo del cleaner normale semplice non l'ho preso perché mi sta finendo uno ma ce l'ho un altro quindi a portata di mano quindi dovreste a posto ce ne ho due quindi ok questo invece mi sta finendo per pulire i pennelli allora aspettate mettiamo qua dentro la carta ok questo qui il brush cleaner io mi ci trovo veramente veramente molto bene per come pulisce i pennelli scusatemi di eccomi allora vi stavo dicendo questo qui è da 150 ml mi ci trovo veramente bene liquido per la pulizia dei pennelli allora il brush cleaner invece mi è costato 4 euro e 99 ok quindi lo mettiamo qua a posto poi che vi faccio vedere ok ho preso un buffer io non ho mai utilizzato nel lime e nei buffer da passione unghie l'ilime va bene ce l'ho mi trovo bene con quelle che ho io e quindi non le prendo dopo poi se più là le prendo me più lo schizzo le prendo allora i buffer l'ho preso per adesso solo uno così vedo anche come mi ci trovo ma credo bene dalle recensioni che ho visto perché io questi due ma vedete sono tutti rovinati ormai non grattano manco più tutti sporchi in casino ho deciso di prendere un buffer eccolo qua allora il buffer mattuccino bianco mi ha costato 59 centesimi ho gratta abbastanza bene cacchio dovrebbe fare il suo lavoro a dovere ok il buffer poi ho preso i gommini per la fresa marato champion 3 che io ho perché io ce l'avevo un gommino quando ho preso la fresa che non ce l'ho da tanto come avete visto anche ultimamente del video ma mi sono perso il gommino è andata finì non lo so quindi io per sicurezza hanno presi due uno che già lo metto lì in una punta e quell'altro me lo tengo di scorta dentro qui dentro eccoli qua e ne ho presi due e questi due gommini per fresa mi ha costati 99 centesimi eccolo qua ok intanto le metto nella frenzi nella presentata lo metto qua nella punta almeno di già uno sta qui abbiamo posizionato posso ok e questo lo lascio qui dentro tante volte perdo quello oppure messo rovina o qualcos'altro cielo di scorta bene poi ho preso la spazzola d'oro che questa qui l'ho vista su un su un video insomma su youtube ho visto che spazzola benissimo le punte quindi queste qui vedete io qua la spazzola ma messa incastrata tutta la polvere qua quindi ho deciso di prenderla qui c'è scritto spazzola in ottone per la rimozione dei residui di lavorazione delle punte per fresa che mi era portata lontano dei bambini allora questa qui mi ha costata spazzola d'oro 4 euro e 99 eccola qua addosca durissima infatti bella tutta dorata della vorrei provare un attimo dovrebbe fa così in toria ciò pure ad rovina alla punta aiuto wow ecco a promessa incastrata ma con la leva però ho visto che la leva abbastanza bene non è facile a pulirle pare che la leva piano piano comunque pare che sta andando via ok comunque dopo ovviamente farò questo lavoro ok quindi questa poi quando via la plastica poi ho acquistato dato che stiamo parlando di ponte questa qui che la volo pure a più riare provare che ero curiosa questa è la punta rose gold carbide flame questa era in offerta mi ha costata 13 euro 13 euro 99 invece dei 18 euro 99 wow questa me sa che bella tosta bellissima comunque bella infatti c'ho questa qui la blue flame che fate le scaglie qua vedete questa qui sono molto più sottili questo è molto più forte comunque ok la volevo provare il caso ma la proverò prima su di me perché vedo che se tanto forte insomma che stacca proprio le unghie cusci la dopperò solo su di me comunque adesso vedo sulle clienti prima la voglio provare su di me quindi questa e sono curiosissima di provarla non vedo l'ora poi 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 a poi ho acquistato questo pennello qui in altra volta che questo già l'avevo preso tempo tempo fa solo che mi sei causato tutto lo stesso colore sempre rosa questo qui è il pennello in silicone mi è costato 2 euro 99 se ce la faccio a tirarlo fuori forse ve lo farò vedere eccolo qua e pennello in silicone eccolo qui questo va bello potete utilizzare per ovviamente però raccogliere i brillantini sta roba qua per applicarli sull'unghia oppure per fare la plastilina sta roba qua però questo io non lo uso io l'ho preso solo per usare questo qui per le polverine praticamente molto bello con i brillantini dentro rosa e adesso ve lo faccio vedere quello che mi dispiace che comunque questo è nuovo però ho perso cosa sotto vedete ha comunque no questi qui sono più scuri con il colore questo qui più chiaro vedete de rosa comunque ok e quindi niente questo mi si è staccato e ciao e quindi alla fine di vabbè visto che ci sono lo riprendo quindi vedete più o meno ho preso tutte cose che mi serviva alla punta aspettate la punta quella per la fresa l'ho voluta prendere perché la volevo provare che da tanto che volevo prendere la punta rose gold la carabine flame sempre punta rose gold quindi la volevo provare state così neanche che mi serviva tipo anche questo che mi stava messo staccato qua vabbè poi ho preso la matita applica ci applica cicce non ce la faccio più a parlare ma perché allora la matita applicatrice a questa procacchio da tempera bene matita in cera per l'applicazione di decorazioni per chi ha questa punti per chi ha questa matita se sotto il video mi può commentare per sapere com'è come per applicare praticamente i brillantini strober trove qua la madonna l'è lunga non pensavo che era cosci lunga allora la matita applicatrice mi è costata 2 euro 90 adesso questo settembre normalmente con temprino normale credo boh credo di sì comunque molto bella perché c'è tutto l'universo cos'è diamanti no tutti i diamanti pensavo che era io l'universo i pianeti invece no tutti i diamanti vedete qua qui dov'è il settembre ovviamente e come si dice c'è la cosa qui in cera va bene comunque vedremo com'è dopo la tempererò poi ho comprato due pennelli allora mi sono ricomprate in colischi il pennello in colischi 00 perché il mio vedo che sta funzionando più pare che sta partendo questi qui dovrebbero avere lo stesso la colla questi qui fini credo perché mi sta veramente partendo allora il pennello questo qui 0 vedete 00 che non metto a fuoco eccolo che è il colischi mi è costato 7 euro 99 e il pennello sì sì comunque c'era la colla questo sì ma pare un po di già messo male no perché c'è la colla vabbè comunque questo qua molto fino questo fai tratti benissimo però già se apri guardate non è che mi è venuto tanto bello sto pennello è il primo guardate qua il primo che ho acquistato già mi era venuto mi era venuto abbastanza bene questo lo taglio perché si è posato tutto vabbè eccolo qua quindi questo l'ho ripreso e porca miseria ma te guarda ma come sa che non ce l'ha nella colla perché questo vabbè comunque questo qua poi ho comprato un pennello nuovo che sarebbe questo qui bellissimo è tipo qua del super fine il pegajim questo è deco 1 per fare il most rock per chi ce l'ho uno ma è più grande il pennello è troppo grande penunghia e quindi mi ci trovo male se vuoi fare un fiorellino piccolino almeno c'è questo qui che è più piccolo come petali così come setole allora questo qui il pennello trendy deco però questo avrebbe essere trendy deco 1 sì 9 euro e 99 o questo sì che va bene vedi questo c'ha proprio il pennellino proprio piccolo 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 piccolino o questo sì o questo mi ci devo trovare abbastanza bene però nella foto l'ho visto che era sul celeste non era blu così prove dico meno c'è un altro colore se dei cadeli fanno così questo c'è la colla dopo le ore varie e quindi ho anche questo qui per fare un nuovo stroke come lo vogliamo chiamare poi ho preso il mio famosissimo amato olimpia 2 come ormai tutti sapete che lo uso sempre stato inverno primavera perché il mio mi stava finendo olimpia 2 il solito costruttore monofasico olimpia 2 da 50 ml costato 19 99 lo sapete che io mi ci trovo sempre bene con olimpia 2 qui adesso attacco il bollino se la faccio scusatemi eccomi qua allora attacchiamo il bollino olimpia 2 mi raccomando non li buttate questi che vi serve per metterli sopra al gel eccolo qua questo l'impia 2 da 50 ml lo sapete che è il mio amore e comunque lo faccio a rivedere adesso molto liquido perché tanto poi d'estate è ancora peggio eccolo qua il mio dorato olimpia 2 non ci trovo che è una bomba e adesso le ultime due cosine ho preso questi due gel color allora ho preso questo che ho preso lollipop che è il fast f20 lollipop che era in offerta che l'ho pagato a 3 euro e 99 invece che 5 euro e 99 allora vediamo lollipop wow bellissimo che bello che l'ho visto sempre sui gruppi commenta telecamera al vivo uguale ragazzi più o meno uguale tutti questi in pro un po' più acceso ovviamente dal vivo bellissimo lollipop con questi micro brillantini all'interno bello bello mi piace dopo questi adesso li applico subito su tip li preparo poi l'altro colore ho preso assenzio che è questo bellissimo verde assenzio è il classic c100 questo pure l'ho pagato dove è scusatemi è 3 euro 99 invece che 5 euro 49 assenzio perché io non c'ho un colore verde c'ho solo il mimetico come colore passione unghica verde ho voluto prendere un altro verde un po' più normale anche se ci devo fare qualche nell'arte però questo dice che è un bel fluo infatti è molto acceso bellissimo bello il suo costo verde bello 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 mi piace la prossima volta dovrei ordinare un giallo normale però un fosforescente un fluo insomma quello che è l'ho chiuso bene si e niente ragazzi cosa dirvi questo è stato il mio bottino da passione unghia questo all ripeto il mese di giugno soltanto ecco io come offerte ho preso soltanto questi due gel color e la punta in carbide questa qui poi vi dirò come ci sono trovate eccetera eccetera e ho preso soltanto così in eco che mi servivano di più come le mascherine il gel che mi stava finendo quest'altro pennello qua perchè questo ho preso la punta l'altro pennello colischi questo perchè comunque con l'altro le setole mi pare pure quello che mi sta partendo le cose nuove ecco che ho preso da provare sono questi tre che li volevo provare e e anche questa vabbè niente io spero comunque che questo video vi sia stato utile per i vostri acquisti se è stato così e se vi è piaciuto mettete un pollice in su sotto al video commentatemi e fatemi sapere il fatto delle mascherine comunque non credo che so usa e getta penso proprio di no comunque va bene scrivetemi lo stesso io per essere più sicura io insomma ecco e e anche buffo niente noi ci vediamo presto al prossimo video vi mando un bacio grande enorme ah fatemi sapere sotto al video l'ultima cosa se vi interessa come pulisco io i pennelli di Passione Unghie insomma ovviamente i pennelli per la ricostruzione per il gel color e tutto se vi interessa farò un video a parte per come pulisco io come faccio io la pulizia dei pennelli fatemelo sapere sotto a questo video se vi interessa così ve lo faccio ve lo preparo niente io vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao